Buongiorno ad FTE Online, avvio sulla parità per la borsa, l'accelerazione rialzista degli ultimi giorni sta perdendo forza, non è detto però che necessariamente inizia una correzione. Vediamo il nostro indicatore RSI a 14 ore che stiamo seguendo ormai da alcuni giorni, che è rientrato al di sotto dell'area del 70%, quindi questo potrebbe essere un segnale effettivamente di avvio di una fase di ripiegamento. Solo se dovessimo però scendere sotto i 24.000 punti, che sono ancora abbastanza lontani, avremo un segnale in questo senso, in quel caso potrebbe esserci effettivamente un ritracciamento magari anche fino a area 23.6-23.7 del movimento precedente. Fino a che siamo di sopra di 24.000 invece c'è ancora la possibilità di vedere rompere i massimi di ieri con accelerazione successiva verso i 24.400 punti circa. La situazione è simile anche per il DAX, vedete questo è il grafico orario, questa mattina ha aperto con un evidente gap a ribasso ma si è fermato sul lato alto del canale crescente che avevamo disegnato dai minimi di fine febbraio e che era stato superato a rialzo l'8 di marzo. Quindi per adesso la flessione di questa mattina sembrerebbe un return move a toccare questo importante livello di supporto. Se dovessimo scendere sotto area 14.4-65-70 allora in quel caso ci sarebbe il rischio anche qui di avvio di una fase di ripiegamento. Anche qua vediamo che l'RSI a 14 ore è rientrato all'interno della zona neutra dopo essere stato per alcune sedute mi per comprato. Quindi anche questo potrebbe essere un segnale che favorisce l'avvio di una correzione. Oggi volevo guardare insieme a voi alcuni titoli, due del mercato americano, Apple e Facebook, in poi intesa e Unicredit che stanno andando molto bene, fare il punto della situazione sul Nasdaq guardando anche i tassi usa 10 anni. Questo per quello che riguarda la versione completa del video che trovate su patreon.com come FTA online. Per quello che ci riguarda invece nella versione di libero accesso guardiamo rapidamente il Nasdaq. Volevo solo farvi notare che il bel rimbalzo che c'è stato nelle ultime sedute per il momento, per quanto significativo, si è limitato a ritracciare la metà circa del movimento precedente. Siamo tra il 50 e il 61,8%, quindi un movimento che per adesso ha caratteristiche correttive. Se dovessimo vedere oggi il Nasdaq composito che sale sopra i 13.500 punti, in quel caso allora avremo un'ulteriore conferma per il rialzo verso 13.850 almeno, che è il lato alto di questo gap. Però per il momento secondo me bisogna essere prudenti perché potrebbe rivelarsi questa reazione come una semplice fase di correzione. Dico questo perché se andiamo a guardare l'andamento dei tassi USA a 10 anni, che sono quelli che hanno condizionato maggiormente il mercato nelle ultime settimane, provocando appunto la discesa dei tecnologici, vedete già nella giornata di ieri hanno ripreso a salire dopo una breve correzione. Se andiamo a guardare le medie mobili probabilmente non siamo nemmeno scesi sotto alla 10 giorni con questa fase di ripiegamento, quindi ci siamo mantenuti, infatti vedete è stata toccata con precisione ieri, ci siamo mantenuti nell'ambito di quello che è un movimento correttivo. Quindi se i tassi USA dovesse riprendere a salire da questo 1.50 che hanno toccato ieri, ovviamente tornerebbe l'attenzione sulla borsa, in particolare sul settore dei tecnologici. Quindi sotto 1.50 del tasso a 10 anni sui bond americani, segnali positivi per la borsa, se dovessimo ripartire al rialzo da qui, invece segnali negativi. Guardiamo rapidamente anche Unicredit che è su un livello di resistenza importante, ormai siamo abituati a trovare questo livello orizzontale intorno ai 9,40€, oggi siamo ancora un po' di sotto di quell'area, come sempre, tutte le volte che guardiamo il titolo, vi segnalo che se dovesse superare quell'area di resistenza, questa fase laterale potrebbe diventare un doppio minimo e quindi fornire un forte impulso al rialzo al titolo con la prospettiva, se andiamo a proiettare l'ampiezza del doppio minimo dall'ipotetico punto di rottura, di tornare verso i 13€. Però la rottura di 9,40 è una condizione essenziale per poter parlare di una ripresa del rialzo di rottura. Vediamo qui come la nostra media mobile esponenziale 10 giorni, ieri è stata toccata dai minimi di seduta, la chiusura è avvenuta di sopra della media, quindi anche in questo caso preservata la tendenza positiva precedente, metterei attenzione in caso di discesa di sotto di 8,90€ e come detto sopra 8,40€ invece forte segnale positivo. Grazie per l'attenzione, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero.